15 marzo, Roma, la difestazione per difendere il pianeta, l'aliquinamento. Ecco qui, siamo a Colosseo, come potete vedere già migliaia di persone, veramente studenti che affollano qui la piazza. Ci siamo anche noi, la rappresentanza dell'associazione Mare Libero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È una cosa importante questa, a parte tutti gli scherzi. È importante per l'ambiente. Infatti sono felice che è venuta molta gente. Noi ci facciamo un giro, vediamo. Noi siamo di Roma tutti, siamo, come diceva, Francesco Vivona, il classico. E siamo tutti per protestare per il nostro periodo e per l'esistenza. Allora, ci siamo riuniti tutti qua oggi, insomma, studenti di tutte le scuole di Roma, ma anche, insomma, persone che, già universitari, bambini, per protestare, insomma, contro il governo che non fa nulla per questa situazione, che è una situazione un po' pericolosa perché sta condizionando il clima e il cambiamento climatico è un tema importante che andrebbe affrontato e quindi stiamo cercando di portare all'attenzione questo tema. L'idea è che è giusto male pensare per il raffinamento perché stiamo raggiungendo un punto di non ritorno che porterà l'estinzione di molte specie animali, di piante e quindi bisogna fare qualcosa. Oggi siamo qui per combattere il nome degli orsi polari, del riscaldamento globale, di tutte quelle persone che non hanno forse più una casa a caso di riscaldamento globale per Greta. Siamo qui per rispondere all'affetto di Greta Tappert il 13 marzo e in questo modo cerchiamo di far passare un messaggio alle autorità competenti per riuscire a cambiare la situazione globale climatica perché tra 13 anni o 11 anni attrapasseremo il punto di non ritorno e la nostra qualità di vita sarà significantemente compromessa. Per voi ci saldiamo paziente e lottare contro il riscaldamento. Non andremo più a scuola perché tanto non avremo futuro. A che serve? Non siamo eccoissimi. Non andremo più a scuola perché tanto non avremo futuro. Non andremo più a scuola perché tanto non avremo futuro.